Il dobbio che vediamo oggi dovrebbe allenarsi e in base all'allenamento di oggi decideremo. Anche altri è uguale, devo vedere l'allenamento di oggi chi ha recuperato e chi no. In base anche di questo fare un po' le scelte, ma sono tutte scelte tecniche, per cui il gioco uno o l'altro a meno cambia. Ieri si è allenato? Ieri no, no. Non ho fatto niente da quelli giorni là, dall'ultima partita. Vespasiani, SRoma.com Il suo Verona ha spesso fatto soffrire la Roma quando ha giocato lì. È un campo difficile, è un campo ostico. Il Verona ha alternato prestazioni perché è comunque lì a 9 punti, pur essendo la peggior difesa del campionato. Come si affronta? Quali sono le insidie? Quali sono sicuramente le cose più difficili da affrontare in questa squadra? No, è un ambiente sempre positivo, che spinge tanto per la squadra. Secondo me hanno tanti giocatori veloci, ottimi, tecnici. Veramente hanno alternato le prestazioni eccellenti con le prestazioni meno buone. Adesso arrivano da un periodo di risultati negativi, anche se l'ultimo hanno fatto bene, poi rimanendo con uno in meno. Però sicuramente saranno incattiviti, mettiamolo così, con tanta voglia di riscattarsi e di fare grandi risultati. Sarà, secondo me, come sempre a Verona, una partita difficilissima. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Volevo chiederle due cose. La prima, lei ha schierato 7 under 25 contro il Torino. Non è una cosa così abituale qui a Roma. Quindi le volevo chiedere come si concilia questa ricerca di valorizzazione dei giovani con la richiesta che le fanno di ottenere risultati subito. E la seconda, siccome la Roma viene da otto trasferte di Serie A senza vincere e lei ha parlato di mentalità, è uno dei problemi da risolvere che questa squadra non riesca magari a trovare continuità tra una partita e l'altra? Grazie. No, ho detto già dal primo giorno che abbiamo tanti giovani con margine di crescita importante. Non è un problema, si può fare risultati anche con giovani. Però abbiamo una rosa, secondo me, equilibrata e useremo a base di allenamenti, di prestazioni, guardando se è giovane o non giovane. È chiaro che i giovani hanno più probabilità di crescere, in un certo senso. Lo trovi magari a un livello più basso, ma con il tempo crescono e quelli più grandi sono una garanzia e bisogna farli rendere al massimo delle possibilità che ce l'hanno. Invece noi veramente come mentalità, come tutto, dobbiamo andare partita per partita, dimostrare che stiamo diventando un buon gruppo. Altro giorno abbiamo fatto una bella partita, ma se non si fa il risultato a Verona non abbiamo fatto niente. Per cui mi aspetto di nuovo stessa mentalità, stessa attenzione, stessa organizzazione, il gioco e cercare sicuramente di vincere. Altro giorno molto meritato, magari anche le partite dove c'è un po' più di equilibrio. Aloisi, il messaggero. Lei giovedì ha detto che l'obiettivo della squadra è quello di tornare a far gioire i tifosi. Se penso ad un calciatore che è in grado di far divertire il pubblico, penso a Sule, che però non sta trovando tanto spazio. Le volevo chiedere come mai, soprattutto in una squadra che fa fatica a segnare, e se secondo lei questo giocatore non è ancora magari adatto alle sue idee e al suo calcio. Ha giocato tantissimo, ha giocato praticamente tutte le partite prima di ammalarsi, per cui non vedo problemi. Poi là ci sono giocatori tra Baldanzi e Dybala. A lui bisogna scegliere, a partita a partita, scegliere chi l'ha. Penso che Baldanzi sta facendo benissimo, Dybala bene. Lui secondo me ha grandi margini di miglioramento, come altri. Poi a volte con i giovani qualcuno cresce velocemente, altri ci vuole un po' più di tempo, ci vuole pazienza, serenità, anche se il nostro ambiente è un ambiente di fretta, di tutto subito. Invece la mia esperienza con vari giocatori, da Buongiorno, Ricci, Zaccagni, bisogna lavorare tantissimo con loro e se hanno voglia cresceranno, per cui su questo sono molto sereno. Pessi il tempo. Buongiorno. Nella conferenza stampa post Roma Torino lei ha detto che Dybala l'ha dimostrato tanto anche come uomo. Ecco, non so se magari c'è un episodio particolare che è successo in questi giorni legato al comportamento dell'argentino e poi le volevo chiedere se è pronto per giocare un'altra partita ravvicinata, visto che la sua gestione è sempre stato un tema qui a Roma, e se magari la posizione che ha occupato in campo contro il Torino, non tanto la centramanti quanto più negli ultimi 30 metri, anche per aiutare Dovic, può essere un progetto tattico perseguibile oppure è stata solo la partita perché ha giocato centramanti? No, no. A livello di uomo, secondo me, lui ha accolto la importanza di quello che conta, che è presentarsi sul campo e giocare bene calcio, che tutto il resto non influisce niente. Cioè la partita devi vincere, allenarti bene per prepararti a vincere. Questo è il concetto chiave nostro. Lui ha fatto l'altro giorno falso 9, però anche quando giocava altre partite contro Bilbao, con Dobbico o altre, lui comunque ha una libertà superiore rispetto ad altri perché ha senso del spazio della partita, la percepisce quello che succede e ogni volta quando lui gioca, gli diamo un po' più libertà rispetto ad altri. Facciamo l'ultima, Pastore Romanista. Buongiorno. Buongiorno. Ora che ha recuperato Esciarawi, le chiedo se può giocare anche a destra o lo vede soltanto dall'altra parte e a questo proposito come sta Zaleschi visto che è uscito prima nell'ultima partita. E una piccola curiosità, aggiungo se posso, Volevo capire quanto manca a Dalla a proposito di esterni e di giovani per entrare nelle rotazioni. Io penso che tutti e due preferiscono un po' giocare a sinistra. C'è sia Zalewski sia il Esciarawi che trovano più comodi là. Anche se Zale ha fatto molto bene contro Dinamo Kiev a destra, per cui sono queste opzioni che abbiamo. Zale mi sembra aveva solo calampi. Ad oggi veramente c'è pochissimo tempo di fare qualsiasi cosa. Vediamo come sta, come stanno. Dalmo è un ragazzo che secondo me è interessante. Io lo vedo un po' come Angelino, in senso che ho un terzino o un terzo e quando è quinto perdono. secondo me è molto simile a lui come caratteristiche, come passo, come tecnica, come tutto. Hanno meno uno contro uno rispetto a Zalewski e al Esciarawi e più piede. Però è un ragazzo che mi piace perché si allena veramente forte, grande mentalità. vediamo. Adesso con il tempo si propone da terzo o da quinto. Dobbiamo decidere. Però è uno di quelli giovani che magari è partito molto indietro. Però mi sta piacendo con la mentalità che ha. Grazie. Grazie. Grazie.